un attimo stiamo trasmettendo dal vivo questa è la prima di tante altre diciamo eventi che farò il fine di questi eventi è di divagare diciamo di argomenti ogni volta diversi l'unico fine di questi video è quello di permettermi di migliorare la mia proprietà di linguaggio oggi io mi chiamo Raffaele Ruffolo e oggi tratteremo parleremo racconterò un po' chi era Ettore Majorana e appunto dirò quello che penso io in merito alla scomparsa e ad altro sono idee personali totalmente diciamo anche assurde volendo però plausibili tanto quanto insomma fino ad ora diciamo raccontate allora chi era innanzitutto Ettore Majorana? Ettore Majorana era un fisico teorico nato nel 1906 feceva parte dei ragazzi di Veri Panisperna di Veri Panisperna di Veri Panisperna ed era probabilmente stato diciamo uno dei più grandi geni esistiti nella faccia della terra di tutti i tempi probabilmente era considerato dallo stesso Fermi di cui era allievo all'altezza appunto di Galileo e di Newton non gli appareva nato neanche Einstein per intenderci quindi pensate cosa ne pensava forse uno dei più grandi diciamo fisici teorico-sperimentali degli anni insomma dell'anteguerra e post-guerra Ricordiamo Fermi appunto fu uno dei fisici che partecipò alla operazione della bomba atomica chiaramente e perché è rimasto famoso Majorana senza aver neanche ricevuto un premio Nobel tra l'altro anche se sarebbe da dargli postumo perché grazie a lui tutt'oggi diciamo tutt'oggi abbiamo stanno ancora studiando i fenomeni descritti da Majorana e alcuni fenomeni appunto sono alla base della della costruzione dei computer quantici quindi pensate quanto era in anticipo Majorana rispetto ai suoi colleghi inoltre bisogna bisogna dire che non soltanto Fermi era uno di quelli che aveva avuto la possibilità di capire quanto era più grande di lui Majorana ma gli stessi suoi contemporanei stranieri come Heisenberg Paoli e compagnia Bella che avevano avuto la possibilità di collaborare assieme a lui diciamo ne sono rimasti tutti quanti stupiti meravigliati in quanto correggeva le loro le loro ipotesi e teorie su cui poi hanno preso i premi Nobel quindi capite quanto erano in grado di quanto era più avanti probabilmente dei suoi contemporanei e quanto poco era capito probabilmente lui diciamo non prese mai i premi Nobel perché non pubblicò pubblicò pochissime cose e aveva la tendenza a pubblicare soltanto quando aveva il completo diciamo il completo diciamo la completa conoscenza della cosa e tant'è vero diciamo che riuscì a scoprire il neutrone prima degli altri ma non pubblicò mai la cosa e quindi prima però andò a ripare ad Heisenberg perché quindi è rimasto famoso è rimasto famoso per il fatto che scomparve a 31 anni diciamo simulando un suicidio un meglio inizialmente simulando un suicidio nella tratta diciamo da Napoli a Palermo attraverso appunto un peroscopo che portava da Napoli a Palermo lasciando appunto al rettore dell'Università di Napoli una missiva in cui diceva che si sarebbe suicidato in pratica in questa in questo viaggio ma dopo gli ne mandò un altro una volta di giunto a Palermo dal inviato appunto da da un hotel di Palermo in cui diceva che sarebbe ritornato il giorno dopo e che le acque l'avevano rifiutato in realtà poi non tornò più e quindi scomparve nel nulla ora non si sa se scomparve nel senso se terminò quello che aveva provato a fare ossia il suicidio nel viaggio di ritorno o seppure è scomparso diciamo è andato in esilio diciamo le teorie sono tante alcune dicono che è andato in Sud America altri che si è chiuso in conventi nei pressi appunto di Napoli e altri appunto dicono che è stato rapito da potenze da servizi segreti di potenze probabilmente americane o altro è chiaro che lui nella sua lucidità precedeva un po' i tempi quindi capiva che quello che su cui aveva lavorato lui e tutti i ragazzi di Aprile Sperna poteva essere un delle conoscenze che mettevano in pericolo diciamo non solo lui ma l'umanità quindi probabilmente per un sentimento etico voleva fare in modo che nessuno si servisse delle sue conoscenze quello che penso io che probabilmente o che si sia suicidato o che o che abbia diciamo finto un uno uno si sia fuggito in Sud America l'ha fatto anche per evitare di essere appunto rapito o servito del suo spere contro la sua volontà magari mettendo in pericolo anche la propria famiglia e quindi la cosa migliore probabilmente era proprio simulare simulare una sparizione e a quei tempi sicuramente se uno voleva sparire come disse lo stesso Fermi una delle sue intelligenze ci sarebbe riuscito quindi al contrario di quello che altri hanno visto nelle parole di Fermi che era sarebbe stato un tentito di suicidio probabilmente Fermi voleva proprio dire che se voleva se voleva sparire dalla dal resto del mondo uno con la sua intelligenza ci sarebbe riuscito ora uno di tanti dubbi è che omestamente Majorana come racconta come raccontano appunto i suoi discendenti e robe varie viveva fino all'anno prima della sparizione viveva in famiglia con la madre cosa che lo rendeva molto poco diciamo dipendente indipendente e molto dipendente appunto dalla dalla madre praticamente era un classico genio che magari nella vita quotidiana non non sapeva districarsi molto bene ma chiaramente chiuso nel suo nel suo mondo vedeva cose che altri non 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 neanche di poter immaginare la sua abilità era era proprio quella di mischiare una grande capacità matematica alla risoluzione di problemi reali nel senso riusciva a tradurre in equazioni quella che era il fenomeno fisico quindi era molto pratico pur essendo diciamo un abilissimo matematico famoso è infatti per per come era entrato appunto a essere allievo di fermi in quanto all'epoca appunto il rettore del del dipartimento di fisica di di Roma cercava appunto allievi per fermi in quanto fermi era appena diventato professore appunto di fisica ed era giovanissimo aveva appena 25 anni e si voleva appunto costruire intorno a lui un gruppo di ricercatori che potessero far tornare diciamo l'Italia ai massimi livelli per quanto riguarda appunto la ricerca e la scienza in particolare la fisica appunto e quindi cercano di convincere tutti i migliori ragazzi anche degli altri corsi degli altri migliori allievi per costruire appunto un gruppo intorno a fermi alcuni amici di di Maiorana appunto subito entrarono nel gruppo di fermi e poi consigliarono allo stesso fermi di far entrare anche Maiorana quanto era sicuramente una mente brillantissima se non che Maiorana spinto da Segre che era appunto uno dei ragazzi che aveva in Sperna e suo amico in questo appunto secondo me da quel poco che ho capito era suo amico ma anche molto invidioso dell'intelligenza di Maiorana come appunto si può capire bene erano tutti quanti molto competitivi questi questo gruppo lo stesso fermi era molto competitivo e spesso perdeva in gare di matematica con lo stesso Maiorana però Fermi nonostante fosse molto competitivo non non se la prendeva più di tanto in quanto si rendeva conto di quanto Maiorana fosse superiore a livello livellamentale tanto come già detto racconta di lui come se fosse un genio a livello appunto dei più grandi mai esistiti e appunto ritornando a come si sono conosciuti Maiorana praticamente un contrafermi che gli mostra appunto dei risultati quello su cui stava lavorando e gli mostra una tabella di risultati trovati appunto diciamo numericamente appunto era una distribuzione di adesso non mi ricordo bene come si chiamava la la legge che poi fu la legge di Fermi Thomas non mi ricordo va bene e praticamente aveva una tabella con i dati numerici che rappresentavano diciamo il fenomeno fisico Maiorana lesse i dati nella tabella naturalmente si trascrivette in un foglio in un pacchetto di sigarette come faceva solitamente la notte stessa praticamente ci lavorò sopra e trovò non una ma due equazioni che risolvevano che risolvevano appunto quei dati notare che appunto Fermi ci lavorò su quei dati praticamente per una settimana e li aveva trovati appunto unicamente numericamente non non integralmente non con un'equazione un'equazione corretta un giorno dopo appunto Maiorana tornò da Fermi e gli chiese di farvi vedere i calcoli rivedo i calcoli e gli disse sono giusti va bene praticamente era Maiorana che aveva fatto l'esame a Fermi e quindi Maiorana entrò nel gruppo di Fermi la cosa straordinaria appunto è che lui risolse in una sera soltanto in due maniere diverse una una distribuzione di numeri e li tradussi in un'equazione un'equazione differenziale avendole appena viste c'è cosa che non riusciva non riusci Fermi che pure era un ottimo diciamo era molto in gamba anche lui cioè tra i suoi allievi che furono Amaldi Segre Pontecorgo Rasetti era sicuramente il più abile ma niente a che vedere appunto con Maiorana la domanda quindi è ci sorge tutti noi spontanea cosa poteva cosa avrebbe potuto fare Maiorana se fosse rimasto vivo o se è rimasto vivo cosa ha continuato a fare durante il resto della sua vita e cosa c'è rimasto allora di lui c'è rimasto volumi e volumi di appunti e di di cose che sono stati diciamo trasformati in libri in piccoli volumetti ma sicuramente non ci rimane diciamo tutto il lavoro fatto tra il 33 e il 34 e il 38 mi pare ci sono leggende appunto riguardo a Maiorana leggende che parlano appunto di del fatto che abbia costruito una macchina in grado di diciamo in grado di materializzare appunto gli oggetti senza emissione di raggi gamma quindi in grado appunto di di creare una macchina che poi non ha soltanto la proprietà di appunto di disintegrare la roba senza diciamo sostanza senza emissione di sostanze radioattive o tossiche ma in grado anche di trasformare appunto le proprietà degli oggetti nel senso trasformare un materiale in un altro proprietà alchemiche è chiaro che queste sono abbastanza leggende però sulle proprietà alchemiche era quello su cui stavano lavorando appunto i i i ragazzi li apri in sperma cioè quando si si parla di fissione nucleare ancora prima della fissione nucleare loro bombardavano il nucleo dell'atomo per diciamo non sapevano che bombardavano il nucleo dell'atomo pensavano all'inizio che loro trasformavano diciamo il numero dei protoni aggiungevano il numero di protoni all'atomo bombardandolo quindi trasformando diciamo un materiale con un certo numero di protoni in un altro con un numero vicino come la trasformazione del rame allo zinco cosa che è appunto possibile cosa che è un po' meno possibile invece trasformare un qualcosa altro in oro ma chi lo sa questo può rimanere un coso può essere pure che c'era arrivato ma non lo sapremo mai gira appunto in rete un video dell'ingegnere Pellizza mi pare che si chiami che a detta sua era stata a contatto con con Majorana in una appunto di quelle teorie in cui Majorana non si è non si è suicidato ma è andata a vivere in un convento e in questo convento ha incontrato appunto questo ingegnere Pellizza che ha educato alla fisica e ha collaborato alla costruzione appunto di questa macchina in grado di di fare molte cose comunque se siete interessati all'argomento o se pensate che sia plausibile questa storia andate a vedere appunto cercate Pellizza e troverete appunto il collegamento con Majorana chiaramente la domanda che ci si è posti che uno ci si può porre perché questo Pellizza ha cercato tutte le maniere di collaborare con gli stati per diciamo permettere l'utilizzo di questa macchina che risolverebbe appunto probabilmente l'inquinamento terrestre in quanto disintegrerebbe tutte diciamo le sostanze tossiche e via dicendo inoltre può trasformare appunto gli oggetti in oro e insomma sembra che la macchina sia una macchina che va configurata in maniera particolare soltanto lui in grado di farla di configurare in maniera particolare però la domanda che uno si può chiedere è perché non appunto come ha fatto in un come sembra di capire che ha fatto in un video ha trasformato del polistirolo in oro e con quest'oro poteva diventare abbastanza potente e ricco per non dover chiedere diciamo un aiuto a qualcuno per per investire per 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 diciamo fare in modo che gli esati si servissero di questa macchina per rendere le cose pulite cioè se hai la possibilità di trasformare le cose in oro diventi automaticamente un miliardario e imponi il tuo il tuo business dato che il potere non ce l'ha la politica o qualcosa ma ce l'ha l'economia e quindi diventando uno dei uomini più potenti al mondo poteva sarà effettivamente un aveva appunto una morale così ha una morale così che è ancora vivo a quanto pare può tranquillamente appunto brevettarla e imporla tra virgolette questa appunto è stata una breve diciamo chiacchierata non continuo perché potrete tiarvi ma ci rivetiamo appunto nelle prossime giornate per nuovi argomenti spero che questo argomento sia stato di vostro interesse abbia stimolato la voglia di andare alla ricerca di di chi è Ettore Maiorana di cosa ha fatto e forse uno dei misteri più più intriganti interessanti anche perché stiamo parlando forse di uno degli uomini più forse assieme a Da Vinci e forse assieme a Galileo Newton elementi più brillanti mai esistiti se non forse la più brillante va bene allora nei prossimi giorni per nuovi argomenti cui forse sono un pochino più ferrato questo onestamente non è una cosa qui una cosa recente che sto leggendo un libro ultimamente quindi non credo di potervi raccontare più di tanto alla prossima ciao a tutti qui Grazie a tutti